Londra si è fermata per il Remembrance Day. La commemorazione dei caduti di tutte le guerre si celebra ogni anno l'11 novembre, giorno in cui nel 1918 ebbe termine il primo conflitto mondiale. A Whitehall, nel centro della capitale britannica, per porre Ghirlande di Papaveri al Cenotafio, erano presenti, oltre alla regina Elisabetta II e ai membri della famiglia reale, il premier David Cameron, insieme a maestranze politiche e militari. Oltre 10.000 veterani hanno assistito alla cerimonia tenuta anche a Camp Bastion, nella provincia afghana di Elmand. Oltre 10.000